Sono in programma per domenica 31 marzo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Tenao, Pescara e Chieti. A recarsi alle urne saranno solo i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della provincia. Si tratta di elezioni di secondo livello riservate ai soli eletti che non riguarderanno il Presidente, eletto con una separata votazione lo scorso 31 ottobre. Si voterà nella sola giornata di domenica delle 8 le 20 e potranno essere eletti alla carica di consiglieri i sindaci e consiglieri in carica dei comuni della provincia. In provincia di Teramo sono 580 gli aventi diritto al voto che dovranno scegliere su tre liste, due di centro-destra che sono il territorio e la gente con 7 candidati e la forza e il territorio con 12 candidati, mentre per il centro-sinistra la casa dei comuni composta da 12 candidati consiglieri. Anche la provincia di Pescara sono tre le liste presentate, ma qui sono due quelle di centro-sinistra, provincia in comune con 10 candidati e civismo per la provincia con 12 candidati, mentre per il centro-destra sono 12 candidati con la lista denominata Forza di Libertà. Infine per la provincia dei Chieti sono state solo due le liste presentate, una del centro-destra denominata centro-destra provinciale ai Chieti con 12 candidati, come quelli di centro-sinistra denominata Provincia Unita. Grazie a tutti.